Ragazzi, siamo in battaglia. Voi state dando il meglio di voi stessi. È sotto gli occhi di tutti. Vittoriosi o sconfitti, usciremo da questo stadio stasera con la testa alta. Date il massimo. Di più non posso chiedere. Sì, può, coach. Se permette lei. Pretendeva di più da noi, pretendeva alla perfezione. Io non dico che sono perfetto perché non lo sono e mai lo sarò come nessuno di noi. Ma abbiamo vinto ogni partita che abbiamo giocato fino ad oggi. Questa squadra, perciò, è perfetta. Perfetta ha fatto il suo ingresso in campo stasera. E se lei non ha nulla in contrario, coach Boone, Perfetta lo lascerà. Sì. Spero che abbiate imparato tanto da me quest'anno quanto io ho imparato da voi. Avete insegnato a guardare allo spirito di un uomo, a non fermarsi al colore della sua pelle. E credo sia arrivata l'ora che anch'io mi unisca a gruppo. Herman, dovrebbe darmi una mano. Harry mi sta facendo nero stasera. Date a sentire. È arrivato il nostro momento. Il secondo tempo è il nostro momento. Faremo qualche cambiamento in difesa. Concediamo troppo spazio all'esterno. Entreranno Raggio di Sole, Alan, Glasgow, Davis e giocherete doppio ruolo. Fino alla fine. Non un solo ricevitore dovrà superare la linea di scrimmage. Il coach Yost vi dirà dove giocare. Va bene? Forza, è il nostro momento. Tutti qui. Il secondo tempo è il nostro momento. Dai, costa al tre. Uno, due, tre. Ehi! Sì! Sì! Sì!